In Italia le piccole e medie imprese crescono, in Sicilia arrancano. Nell'isola il fatturato avanza meno che nelle altre regioni, solo dell'1,7% rispetto all'anno precedente e una su due ha la cattiva abitudine di non saldare i pagamenti. Perché? Influiscono negativamente le conseguenze della pandemia, la guerra tra Russia e Ucraina e l'inflazione galoppante. Tutte le PMI italiane sono colpite, ma quelle del sud in modo particolare. All'orizzonte la possibilità che la forbice tra settentrione e meridione si allarvi. Leggi su focusicilia.it tutti i dati del rapporto regionale PMI 2023.